Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Japheth, ai quali nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Javan, Elisa, Tarsis, quelli di Cipro e quelli di Rodi. Da costoro si suddivisero le popolazioni delle isole e delle genti. Questi furono i figli di Japheth nei loro territori, ciascuno secondo la sua lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro diverse nazioni. I figli di Cam, Etiopia, Egitto, Put e Canaan. I figli di Etiopia, Seba, Avila, Sapta, Rama e Sapteka. I figli di Rama, Saba e Dedan. Ora Etiopia generò Nimrod. Costui fu il primo a divenire potente nella regione. Egli era un valente cacciatore al cospetto del Signore, perciò si suol dire come Nimrod, valente cacciatore al cospetto del Signore. Il nucleo del suo regno fu Babele, Uruk, Akkad e Kalne, nella terra di Sennaar. Di lì uscì in Assur e costruì Ninive, le piazze della città Kalach e Resen, tra Ninive e Kalach. Quella è la grande città. Egitto generò quelli di Lud, Anan, Lab, Naftuk, Patros, Kasluk e Kaftor, donde uscirono i Filistei. Canaan generò Sidone, suo primo genito, Eket e il Gebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo, l'Eveo, l'Archita, il Sineo, l'Arvadita, il Semarita e l'Amatita. In seguito le famiglie dei Cananei si dispersero, cosicché il confine dei Cananei fu da Sidone fino a Gerara e Gaza, poi fino a Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, fino all'Esa. Questi furono i figli di Can, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori e nelle loro diverse nazioni. Anche a Sem, l'antenato di tutti i figli di Eber, fratello maggiore di Japheth, nacque una discendenza. Figli di Sem, Elam, Assur, Arpaxad, Lud, Aram. Figli di Aram, Uz, Kul, Geter e Mas. Arpaxad generò Selak e Selak generò Eber. A Eber nacquero due figli, uno fu chiamato Peleg perché ai suoi tempi fu divisa la terra e suo fratello fu chiamato Ioktan. Ioktan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Yerak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Iobab. Tutti questi furono figli di Ioktan. La loro abitazione fu da Mesa fin verso Sefar, monte dell'Oriente. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue, e nei loro territori, secondo le loro nazioni. Queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo la loro genealogia, nelle loro nazioni. Da esse si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio.